Allora, vuoi iniziare la tua carriera da social media manager? Probabilmente ti stai guardando attorno e veramente sul web ormai c'è di tutto. Tutti parlano di SMM, SMMA, social media marketing, social media manager, si parla di tutto e c'è un gran caos là fuori. Allora, lascia che ti dica questo. Negli ultimi due anni, insieme a Fabio Gallerani, all'interno della nostra accademia Marketing Genius, abbiamo formato oltre 700 social media manager con successo. Mentre parlo, probabilmente stai guardando le testimonianze e i risultati dei nostri studenti. Come è stato possibile fare tutto questo? Beh, perché siamo stati i primi ad innovare completamente questa professione e soprattutto a dargli un metodo pratico. E quello che mi fa un po', non dico arrabbiare, mi fa quasi sorridere, è che adesso sono nate mille accademie, mille scuole, tutti che parlano di marketing digitale, social media, eccetera. Poi però, se vai a vedere, i nomi dei docenti non si sa chi sono, cioè non si trovano sul web. Ci sono persone che fanno gli esperti di marketing digitale, poi vai sul loro sito e hanno il sito tipo del 1995 con tutte le scritte sfasate, oppure vedi che il loro ultimo video su YouTube magari è di 30 anni fa, oppure hanno il profilo Facebook completamente morto. Ma queste persone, ok, sapranno la teoria, l'avranno studiata, ma ritorniamo un po' come ai tempi della scuola, quando il professore effettivamente ti insegna cose che ha letto sui libri, ma non le fa quotidianamente. Allora, quello che noi abbiamo cercato di fare in Marketing Genius è stato prendere tutto quello che io e Fabio abbiamo imparato in questi anni e soprattutto quello che continuiamo ad imparare applicandoci sul campo e trasferirlo ai nostri studenti, soprattutto mettere giù un sistema in nove step che ti permette prima di tutto di capire qual è la tua professione da social media manager, cioè come si diventa SMM, quali sono le competenze che devi sviluppare, quali sono i tuoi obblighi, quali sono i tuoi doveri, le cose più importanti che devi sapere proprio di questa professione. Poi creare la tua presenza online, quindi sistemare i tuoi social network, creare la tua presenza digitale, perché altrimenti non puoi aiutare qualcuno a lavorare sui social se tu stesso non hai una presenza digitale e subito dopo acquisire clienti e portarli al successo. All'interno del corso addirittura abbiamo creato una sezione divisa in step dove settimana dopo settimana sai esattamente cosa fare per il tuo cliente. È come avere una guida, quindi settimana 1 acquisisco il cliente e lo vado a riposizionare sul web, settimana 2 inizio a sistemare le grafiche, settimana 3 inizio con i post e così via. Quindi creando questo sistema dove è letteralmente impossibile fallire se segui esattamente gli step, i nostri studenti ottengono risultati davvero in breve tempo. Come puoi vedere ti lascio ancora qualche testimonianza qui in sovraimpressione, e i risultati sono incredibili soprattutto per persone che partono completamente da zero. Quindi se questo è il tuo caso, se vuoi reinventarti, cambiare professione oppure iniziare un'attività online partendo completamente da zero, questo corso assolutamente fa per te, anche se hai 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, anche oltre 70 anni perché abbiamo studenti che si sono messi in gioco anche dopo la pensione e stanno avendo risultati incredibili con questo corso. Ti lascio allora il link qui in descrizione e ti invito a contattare il nostro supporto per qualsiasi ulteriore dubbio o domanda. Ti mando un abbraccio e a prestissimo!